Ciao a tutti ragazzi, bentornati a tutti come sempre Tiz, proseguiamo con la nostra carriera di allenatore con la SPAL Siamo arrivati a fine novembre, tra l'altro già alla vigilia di una partita importante contro il Genoa Nello scorso episodio abbiamo purtroppo assistito ancora a delle difficoltà, soprattutto nei risultati per la nostra SPAL Speriamo quest'oggi di fare più risultati, di fare più punti Comunque ringrazio tutti coloro che mi stanno spronando, mi stanno supportando nonostante questo inizio ad alti e grossi bassi di carriera E ringrazio tutti quelli che mi mandano sempre dei suggerimenti di formazioni, moduli, istruzioni da dare ai giocatori Però come avete visto non è la prima formazione che proviamo, con tutte le formazioni abbiamo incontrato diverse difficoltà Al momento io ho deciso di posizionarmi in questo modo in campo, rimane titolare Moncini Ho visto un bellissimo scambio tra Kwame e Moncini con questo modulo nell'ultima partita contro l'Udinese E voglio vedere se con questo modulo fin dall'inizio non dobbiamo recuperare il 2-0, andare sul 2-2 Ma possiamo iniziare subito dall'inizio giocando bene Io direi di andare subito in campo contro il Genoa perché più partite facciamo più ci avviciniamo al nostro obiettivo Che è quello del mercato di gennaio Dove stiamo aspettando un'offerta importante per, sicuramente per Petagna ma anche per Floccari Che speriamo ci frutti tanti soldi per poter andare avanti a investire sul mercato E comprare nomi nuovi che siano sia utili alla squadra a farla crescere ma anche utili poi proprio sul campo Che non facciano diciamo cavolate come molti altri giocatori che invece avevamo già in rosa Hanno dimostrato di fare alcune volte Le maglie sono sempre queste, ho usato poco la seconda maglia della SPAL Perché è la prima diciamo che è sempre abbastanza compatibile con tutte le altre Per cui continuiamo con la nostra maglia a righine, azzurre e bianche E sfidiamo il Genoa in casa Di Francesco dentro Quame, quame, incredibile ragazzi L'avevo anche piazzata bene, forse lì devo andare un pochino più di potenza Comunque parata del portiere del Genoa Attenzione calcio d'angolo Attenzione la palla rimane lì Murgia proviamo col tiro da fuori Non buono Poi d'Alessandro il cross Parata del portiere Dentro, attenzione Il tiro, parata ancora E arriva il gol, arriva il gol di Francesco Finalmente si sblocca anche lui 1-0 Dai, dai, dai Bravi ragazzi 1-0 Rimaniamo concentrati Il Genoa è un avversario fino ad ora che non ci ha spaventati in questa partita Per cui non dobbiamo adesso far cambiare le sorti di questa gara Siamo in vantaggio, dobbiamo continuare così Quame, Quame, prova ad andare sull'esterno Il tiro di Quame, attenzione Vai Moncini Arriva la parata ancora di Albertoni Occhio Bindelli prova a tenerlo Palla dentro Berisha Madonna ragazzi Qua Berisha Un cross innocuo era stato trasformato in un'occasione da gol Poi per fortuna il difensore l'ha messa in calcio d'angolo Occhio al Genoa ancora Il tiro da fuori Qua ci sarà un fuorigioco però Infatti è così Attenzione brutta questa Subito Scurs Madonna ragazzi abbiamo rischiato tantissimo Petagna subito di testa Fa sentire i suoi centimetri Attenzione Palla dentro Bella è ancora in gioco Quame Di nuovo su Petagna Il tiro di Petagna Attenzione La passa dietro dove c'è Murgia Che prova il tiro da fuori Niente non ancora Kurtic Birindelli Peccato per Petagna Poteva andare subito in gol Niente Lentissimo Perché l'ho rimesso in campo Petagna Dentro Di Francesco Di Francesco Bella questa azione di Di Francesco Poi arriva L'intervento del difensore Attenzione Prova il cross Vignato Ormai è finita Ormai è finita Fischio finale 1-0 Dai tre punti importanti Abbiamo un po' sofferto nel finale Genoa si è fatto prepotentemente avanti Ma siamo sfociati In una vittoria Che tra l'altro Convince anche per quanto riguarda I dati partita Quindi fa ancora di più rosicare Che abbiamo dovuto soffrire nel finale Abbiamo avuto tante occasioni Abbiamo fatto un primo tempo quasi perfetto Migliori in campo Da Alessandro E di Francesco Per cui questo nuovo modulo Fa giocare molto bene Questi esterni Mezzeali E questo è un'ottima notizia Petagna mi ha fatto schifo Qua me invece abbastanza bene Come vedete poi le valutazioni A centrocampo E in difesa E in porta Sono tutte buone Quindi I dubbi rimangono Soprattutto per l'attacco Per la fase offensiva Ma quello che contava Era vincere Quest'oggi Allora Le è piaciuto il secondo tempo? Avremmo dovuto chiudere la partita? No forse Vedete? Appena cerco di rispondere Per come mi sento Faccio dei casini Allora adesso devo stare attento Avete mai dubitato della vittoria? Sapevo che ce l'avremmo fatta Ecco Morale torna su Andiamo a fare allenamenti ragazzi Intanto vediamo la classifica Ma qua si vive da dio Qua si vive proprio bene Siamo arrivati al dodicesimo posto E respiriamo finalmente un po' Eccolo qua il calendario Dopo il giorno andiamo nei mesi di dicembre Abbiamo l'Inter L'Inter a San Siro Poi avremo il Brescia E poi attenzione Avremo il Parma In Coppa Italia Quindi forse riusciremo a vedere Tutte queste partite Andiamo a fare allenamenti intanto Vicari è vicino al 74 Questa è un'ottima notizia Comunque i centrali Pian pianino Stanno crescendo bene Eccoci qua a San Siro Questa volta di giorno Avevamo già incontrato a San Siro Il Milan Questo girone d'andata Ci vede per due volte Fuori casa Contro queste due squadre Sarà un leggero vantaggio Poi per noi Nel girone di ritorno Vediamo il settore ospiti della SPAL Gigante Sono arrivati tutti da Ferrara Per vedere questa partita Ci sarà un grande tifo Attenzione Vedo Memphis Depay Nell'Inter Lo riconosco Uno dei giocatori chiave Della nostra storia di FIFA Heat Ce l'avremo contro In questa partita Dove l'Inter non Schiera nessun bug Nessun sostituto Vediamo Lukaku in attacco Con il fumo che gli esce dalla faccia Avete visto anche voi Vi prego Io sono lì in panchina Che come tutti i allenatori Della squadra Che si deve salvare Quando arriva a San Siro Comunque sente un po' L'emozione Perché dice Altri fumi che escono dalla faccia Attenzione Ma lo vedete anche voi Ho un problema del mio schermo Io vedo fumi uscire Dalla faccia dei giocatori Comunque Tornando a noi Sto cercando di fare Un'introduzione realistica Poi vedo la faccia Della gente col fumo Tornando a noi L'Inter schiera titolari Anche se c'è in porta Padelli Però In attacco Ci sarà Un duo Probabilmente letale Lukaku Memphis Depay Uno dei giocatori Che ho più amato E che più amo ancora Largo per Lazzaro Subito Lukaku Ci prova di testa Qua Scurs Contro Lukaku Avrà una giornata Molto difficile Memphis Depay Allargano molto il gioco Visto anche il modulo Attenzione Traversa Scurs Arriva a traversa E non è colpo di testa Di Lukaku Ma di Memphis Depay Attenzione A Memphis Depay Palo 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 di Depay Palo di Depay Abbiamo perso Un palone sanguinoso Però al centrocampo Non dovrà più succedere C'è un passaggio dentro Chiudilo bene Scurs Chiudilo bene Chiudilo bene Arriva il gol Dell'Inter Con Memphis Depay Grande tiro di destro Sul secondo palo Però abbiamo fatto Troppo poco Facciamo fatica A ripartire Nel frattempo Svapa Lukaku Mentre abbraccia Depay Qua Scurs Ha provato a difendere Primo palo Però poi Depay Ha riuscito a mettersela Bene sul destro Ha raggiunto Il secondo palo Con questo grande tiro Dal limite dell'area Attenzione Kurtic Proviamo il tiro Da fuori Attenzione Portiere è rimasto immobile E la palla Non è passata di molto Alla destra di Padelli Urca Bella questa palla Per Lazzaro Palla dentro Gol 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 dell'Inter Con Lukaku Di testa Lukaku Occhio Madonna ragazzi Dilaga l'Inter Con un bellissimo gol Qua Corale Gol di Memphis Depay Peccato Volevo perlomeno Cercare di non perdere Dignità Che fino ad ora È stata la partita Dove c'è stata Meno storia Da quando Ho iniziato Il campionato Con la SPAL Fischio finale Non aspettavamo altro 3-0 per l'Inter A San Siro Prevedibile Ma Devo dire che Mi ha davvero colpito Quest'Inter Che ho incontrato Oggi A San Siro Lukaku Memphis Depay È stati fenomenali Ha giocato molto bene Anche sulle fasce L'Inter E ci ha tagliati in due Non riuscivamo mai A raggiungere gli attaccanti Per cui devo Veramente fare i complimenti Vediamo se mi faranno fare i complimenti In questa intervista Ok Gli ho fatti Adesso però Basta Cos'è che non ha funzionato Non siamo riusciti A fare il nostro gioco Vero Depe è stato uno dei migliori in campo È un ottimo giocatore Dai parliamo bene di Memphis Depay Che comunque Mi fa sempre piacere Avremo occasione In futuro Di poter affrontare L'Inter Alla pari O perlomeno A testa alta Ma sicuramente Non è questo il periodo Dove poter fare queste sfide E quando poi Giocano Come hanno giocato oggi Non c'è davvero storia Per cui Incassiamo questa sconfitta A San Siro Ci può stare Simuliamo tutto Sale Gabrielotto Moncini Diventa un 72 Andiamo a giocare Col Brescia Che cerchiamo subito Di rialzarci Dopo questa sconfitta A San Siro Che ne dite Sì dai Giochiamo così Anche se loro hanno una maglia Che è veramente schifosa Da vedere Io Terrei ancora questa formazione Anche perché è salito Gabrielotto Moncini Voglio assolutamente provarlo Poi vedremo nel secondo tempo Che soluzioni Adottare Vogliamo fare un buon giro palla Poi Quame Moncini Quame Quame Sul destro Subito rete Incredibile Questo è il giocatore Che volevo Questo è il giocatore Che volevo Nella mia squadra Uno che riesce subito Ad allargarsi A mettersela sul destro E a sfondare la porta Bravi Bravi ragazzi Bravi ragazzi Subito gol Bravissimi Moncini E quame Bello scambio Che gol Ragazzi Che gol Ma che bello provare emozioni Finalmente con giocatori Della mia squadra nuova Occhio Occhio Scurs È incredibile quanto soffriamo in difesa Però ogni volta Facciamo una fatica a spazzarla via Via Scurs Via Scurs Niente 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 Scurs Niente Scurs Attenzione a Balotelli Brutta questa Brutta Brutta Via Via Arriva il fischio finale Un altro 1-0 Mancheranno le finalizzazioni Ancora Facciamo pochi gol Ma Come punti Questo episodio Ci sta finalmente Regalando un pochino più di serenità Se riuscite a fare 6 punti In 3 partite 2 vittorie Una sconfitta Che però è arrivata Con l'Inter A San Siro Per cui fino ad ora Non possiamo lamentarci Se dobbiamo ancora attraversare Un periodo di Gioco A tratti scarso Ma con dei risultati Per arrivare poi a giocare anche bene E vincere Comunque è già un passaggio importante Allora Le è piaciuto il secondo tempo? Avremmo dovuto chiudere la partita Poi Siete riusciti a segnare Gol decisivo Avete dubitato della vittoria Sapevo che ce l'avremmo fatta E infine Cancellor È stato uno dei migliori in campo Nelle file del Brescia Quanto è stato difficile trovare Varchi Non è stato facile Ammettiamolo Però Il gran gol di Kwame Nel primo tempo Ci ha portati Alla vittoria Devo dire che Se l'acquisto di Kwame Aveva lo scopo Di aiutarci a fare gol E a salvarci Fino ad ora Lo sta mantenendo Allenamenti fatti Sale Scurs Diventa un 75 Devo dire che come Crescita Scurs Sta crescendo molto bene Si sta allenando molto bene Per l'impegno Non gli posso dire niente Forse L'ho comprato Con i sogni Di Trovare il giocatore In difesa Che mi svoltasse Tutto Abbiamo sigillato molto bene Abbiamo sigillato molto bene la difesa E questo sicuramente merito Del lavoro di squadra E anche di crescita Che hanno fatto Scurs E Vicari Qua è arrivato Un'osservazione Su Mark Oliver Kempf Che ho chiesto io di seguire Perché mi piace Perché a parte che Vabbè Tedesco Abbastanza solido Mi sembra 24 anni Se non sbaglio Perché Adesso non mi ricordo Intanto perché ha il piede sinistro Quindi potrebbe stare bene Di fianco a Scurs Ma soprattutto Perché avevo visto 92 di elevazione 78 di precisione di testa Allora ho detto Uh Diamogli un'occhiata A sto ragazzo Poi mi sembra che anche Per velocità Resistenza Reattività Agilità Non è messo male Ha anche una buona intercettazione Una buona forza Questo è un difensore Che così A statistiche Mi attira Molto Per cui L'ho seguito Confermiamo sempre i soliti Dobbiamo dare un pochino Di continuità A questa squadra Abbiamo cambiato tantissimi moduli Tantissime formazioni Dobbiamo dare un pochino Di continuità A questa squadra Per cui per il momento Restiamo così Poi capiremo Come risolvere Il dialogo Tra difesa Più che altro Tra Curtice Murgia E Kwame Moncini Questo bisognerà Un attimo sistemarlo Però per il momento Se arrivano i risultati Anche se sono ancora 1-0 1-0 Però se arrivano Bisogna continuare Su questa linea Birindellone Birindellone Invece di testa Ci arriva Com'è sta storia Nonostante la sua Scarsità di centimetri Di occhio a Cornelius Bravo Vicari Siamo scoperti Gol di Caramò Madonna ragazzi Che buco Che abbiamo lasciato Lì dietro Arriva il gol Di Caramò Non me l'aspettavo Vicari è intervenuto Molto bene Però ha lasciato Poi un buco Lì dove Ha intervenuto L'esterno Ex Inter E siamo Purtroppo Sotto In questa Prima di Coppa Italia Dai ragazzi Sveglia Ci servirà Un esterno Molto veloce Da prendere nel mercato Attenzione Qua me Qua me Palla dentro Gabrielotto Gabrielotto L'Aquilotto Uno pari Dai 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 Così ragazzi Così 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 Uno pari Bravi 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 Brutto Ragazzi Ma non possiamo Farci infilare così 2 a 1 per il Parma Madonna ragazzi Ma magari Ma magari Facesso degli inserimenti Così miei attaccanti Ogni volta Una sofferenza Ma niente da fare Attenzione Sono un po' scoperti loro Allora prova il Gabrielotto Mi dà l'impressione Che questo tiro sarebbe Andato in porta Qua me Dentro Dai Non ci credo ragazzi Neanche il gol della merda Mi ha insegnato Dai però Gabrielotto Qua no Contro il piede letale Del Parma Attenzione Sul 2 a 1 per loro Potrebbe essere La fine Arriva il palo di Caramò Abbiamo ancora una chance 5 minuti Andiamo in avanti Arriva il fischio finale Purtroppo Va avanti In Coppa Italia Il Parma Abbiamo sofferto parecchio Questa squadra Soprattutto sulle fasce Hanno avuto Molto spesso L'opportunità Di Bruciarci In velocità Peccato Vabbè Nostro viaggio In Coppa Italia Finisce qua Però L'obiettivo stagionale Di arrivare Ai sedicesimi L'avevamo già raggiunto Perché eravamo arrivati Agli ottavi Potevamo andare avanti Però Vabbè La Coppa Italia Nel senso Non avremmo comunque Potuto vincere Ok Facciamo gli allenamenti Non vanno così male Anzi Vignato sale parecchio Si avvicina al 68 Vignato è uno di quei giocatori Che adesso Non lo notiamo Ma quando Crescerà un po' Improvvisamente In campo Si noterà La sua bravura Per cui Dobbiamo dargli Sicuramente Tanto tempo Per crescere Prossimo avversario È il Torino Siamo usciti purtroppo Dalla Coppa Italia Col Parma Ma Ho giocato forse Un pochino troppo Alla leggera E alla fine Ci hanno infilati È arrivato Il resoconto Ah eccolo qua I primi giovani Arrivano i primi giovani Qua abbiamo Andrea Giordano Tra il 40 E il 54 E ha già 17 anni Troppo poco Rifiuta Qua abbiamo Due sedicenni Allora Questo Davide Russo Ha più Totale Ma meno potenziale E invece Il fratellino Michele Russo Ha Meno totale Ma Ha un buonissimo potenziale Poi dobbiamo Diciamo Dobbiamo osservarlo Da vicino per capire Se questo potenziale Poi scende Sale Eccetera eccetera Però io direi Di Ingaggiare Tutte e due I fratellini Russo Abbiamo Ingaggiato I fratelli Russo Nelle nostre giovanili E sale molto L'aspettativa Della dirigenza Perché siamo riusciti Anche a ingaggiare Un giovane Siamo vicinissimi Al mercato Ragazzi Dopo il Torino C'è ancora la Roma Alla vigilia A capodanno Diciamo Con i botti Ci sarà la Roma E poi a gennaio Avremo A parte avremo Quattro avversari Un pochino più fattibili Da affrontare Ma avremo la finestra Di mercato Manca pochissimo Quindi lo sapete Già ora Nel prossimo episodio Vi voglio tutti In live su Twitch Vi avviserò Ovviamente Con un po' di preavviso Così potete prendere I posti migliori In sala Ma vi aspetto Ovviamente su Twitch E su Youtube Per darmi tutti i consigli E perseguire La finestra Di mercato Di riparazione Che più Quest'anno Che mai È attesa Visto che Molti giocatori In campo Ancora Non ci hanno convinto Iniziamo a vendere Un po' di merchandising Anche della seconda maglia Questo giallino oro Lo stiamo vedendo Sempre di più indossato Dai nostri giocatori Non capisco più Se quel fumo Che esce Dalla faccia Dei giocatori Sia Condensa Per il freddo Visto che è dicembre Voglio Illudermi Che sia Condensa Per il freddo Attenzione Subito Toro in avanti Gol Benissimo Subito Gol del Torino Incredibile Prima occasione Guardate qua Guardate qua Beriscia Che porcheria Che ha fatto Subito Gol del Torino Bravi ragazzi Dai ragazzi Io ci credo Rialziamoci Rialziamoci Il tiro Qua si è mosso bene Moncini E anche Io in Panchina Sono lì Che applaudo Per questo Per questo Tentativo Di Moncini Ancora aspettiamo Il primo gol Da calcio d'angolo La scarica dietro Kwame Kwame Gol Gol Uno pari Kwame 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 Uno pari Eh mi vieni un po' più vicino Non lo so Mi vuoi limonare Dai Moncini Moncini Rientriamo Torniamo indietro Per Kwame 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 Il tiro di Kwame Parata Probabilmente finirà il primo tempo No c'è ancora occasione per un calcio d'angolo Allora lo buttiamo sul primo palo Dove entra qualcuno Dove entra qualcuno Di testa Ma non Arriva sul pallone Finisce il primo tempo Uno pari fra Torino E Spal Calcio d'angolo Madonna Abbiamo rischiato E poi c'è probabilmente un fuorigioco di Laxalt Sì Bella parata di Berisha questa volta Kurtic Kurtic Difende il pallone Dai ragazzi Miracolo del portiere Sul tiro di Gabrielotto All'ottantesimo Manca pochissimo Manca pochissimo Petagna Dentro D'Alessandro D'Alessandro Al novantaduesimo Uno a due Ce l'abbiamo fatta Ci abbiamo messo 90 minuti Per ribaltare questo risultato Ma alla fine ce l'abbiamo fatta Dopo un uno a zero del Toro Letale Nei primi tre minuti Siamo riusciti in casa loro A ribaltare questo risultato Ed è finalmente Un risultato storico Finalmente una vittoria Diciamo sofferta E raggiunta tramite il gioco E arriva questo gol di D'Alessandro Che davvero merita Tantissimi applausi Per essersi Ritagliato questo ruolo Da titolare E aver segnato anche questo gol Su assist di Petagnone Che alla fine non ha segnato Ovviamente Ma ha fornito questo assist Arriva il fischio finale Questi sono tre punti Davvero preziosi Con questo tiro Piazzato Sul secondo palo Di D'Alessandro Che si è infilato bene Molto 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 bene Ragazzi Bravi 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 Chiudo questo episodio Davvero con il sorriso Allora La fortuna Un po' di fortuna Ogni tanto non guasta Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Abbiamo vinto di misura Questo risultato lo soddisfa Sono felice di aver vinto Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Ed è stato uno dei migliori in campo Non dire cazzate Quanto è stato difficile impedire All'attaccante della squadra Torino Di segnare Non è stato facile Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Morale molto felice Le aspettative della dirigenza Sono sopra il 90 Perché abbiamo anche sistemato il discorso dei giovani Ora stiamo sistemando anche i risultati in classifica Siamo ovviamente ancora non messi bene Siamo al dodicesimo posto Però per una squadra come la nostra E per come eravamo messi fino a due episodi fa Ma soprattutto fino all'episodio scorso Non possiamo lamentarci Siamo a più 7 dalla zona retrocessione Abbiamo davanti a noi la Fiorentina Poi di nuovo Atalanta Roma Sassuolo Sono a 25 punti Quindi siamo a più 7 dalla zona retrocessione E a meno 5 Dalle zone un pochino più calde della classifica Diciamo che siamo a meno 6 dalla zona Europa League È ovvio che non puntiamo a quello Ma è giusto per rendere l'idea Di dove ci hanno portato le vittorie di oggi Alleno totalmente Petagna In modo da farlo diventare un 79 E poi lo cediamo Come se fosse carne da macello Come se fosse bestiame Lo vendiamo sul mercato Comunque Detto questo Vi ho già segnalato E segnato Nella descrizione anche del video I link per venirmi a seguire Appunto su Twitch E su Instagram Per cui possiamo salutarci qua Lasciate un bel mi piace Lasciate un commento E ci vediamo presto Con il prossimo episodio Bella ragazzi Grazie a tutti